e hanno tutti dei superpoteri, possono saltare a grande distanza, possono ibernarsi, possono disidratarsi, sono pazzeschi. Ciao a chi ci ascolta, io sono Manuela e con Life, il faro dei curiosi, vi do il benvenuto in questa nuova puntata del podcast dei curiosi, il podcast che ci porta alla scoperta della scienza e di chi la vive in prima persona. Oggi vi parleremo di fotografia naturalistica, di biodiversità e di viaggi in giro per l'Italia. Per farlo è con noi Marco Colombo, fotografo naturalista, divulgatore scientifico, autore di moltissimi libri e relatore di ancora più conferenze. Con le sue foto ha ottenuto diversi prestigiosi riconoscimenti internazionali, fra cui tre vittorie di categoria dell'ambitissimo premio Wildlife Photographer of the Year. Grazie Marco per essere con noi. Ciao, grazie mille a voi e complimenti per il vostro impegno e lavoro. Grazie mille, beh sicuramente in questa puntata parleremo anche del tuo di lavoro, di bestie strane, di fotografia, ma prima vorrei partire un po' da lontano, tra virgolette, e chiederti del tuo percorso universitario. So, l'ho letto su Wikipedia, ammetto, che hai studiato scienze naturali, io invece ho fatto biologia. Perché quando ho iniziato l'università più persone mi hanno sconsigliato di fare scienze naturali, per usare un eufemismo, e dicendo no, scienze naturali assolutamente no, piuttosto fai biologia, c'erano varie scuole di pensiero, è un po' per una faida che si è venuta a creare fra biologi e naturalisti. E quindi ti volevo chiedere invece di raccontare il tuo percorso, per gli aspiranti naturalisti all'ascolto, qual è stata la tua esperienza e cosa ti ha dato? Ma guarda, ormai sono passati tanti anni, però io non ricordo questa grande faida tra biologi e naturalisti, anzi alcune delle lezioni erano sovrapposte, cioè avevamo gli stessi professori, eravamo nella stessa classe e così via. Diciamo che quello che si diceva allora, poi sicuramente qualcosa sarà cambiato, è che biologia era un po' più da laboratorio, un po' più a livello cellulare, un po' più a livello, diciamo, fisiologico, eccetera, e invece scienze naturali era un po' più sui massimi sistemi, diciamo così, che poi si basano ovviamente sulla biologia, quindi non è che siano antitetiche le due cose. Io ho studiato scienze naturali a Milano, ho fatto una tesi triennale sul comportamento notturno delle vipere e una specialistica sulle lucertole muraiole, quelle che si trovano sui muri un po' dappertutto. Direi che mi è servito molto, è stato molto interessante per darmi più che altro una forma mentale, nell'approcciarmi alla natura, per darmi un'infarinatura di base su tutte le materie che normalmente si approfondiscono di più, poi in maniera autonoma, per esempio zoologia, ovviamente non è che ti insegna come identificare tutti i singoli anfibi che potresti incontrare, ma è una cosa che a me piace molto, quindi me lo faccio per conto mio, e quella invece materia mi ha dato una forma mentale. La materia che secondo me era stata più utile in assoluto e più interessante, era un po' un'innovazione, adesso non so se la faccio ancora perché cambia in continuazione, come sai, però era, lo chiamavamo maxicorso, un corso in cui ogni lezione era tenuta da un professore diverso nel suo ambito e serviva a imparare a studiare un'area, quindi l'esame prevedeva che si portasse un documento tipo relazione su un'area scelta vicino a casa, possibilmente, analizzata sotto tutti i punti di vista, quindi rocce, suolo, eventuali fossili, clima, pauna, flora e così via, e ci doveva essere poi, oltre a questa ricerca bibliografica, una parte finale di lavoro di campo, quindi io poi avevo fatto il censimento dei rettili di questa zona ed era stato molto utile, molto interessante quello, però ecco sì, mi è servito, io sono appassionato da un sacco, quindi leggo tantissimo anche per conto mio, ma ovviamente l'università è importante. Questa idea del maxicorso con una grande parte pratica è bellissima, soprattutto vista dall'altra parte, avendo fatto appunto biologia, come diciamo prima, forse quello che manca proprio di più in questo tipo di formazione è questa parte pratica, che oltre a dare un valore aggiunto è anche molto divertente. Oggi, dopo questa prima parte di formazione della tua vita, di professione, come abbiamo già detto, fai il fotografo naturalista, che è un lavoro tanto affascinante quanto importante, un po' perché altrimenti gli atlanti di zoologia, se ci fossero solo persone come me che fanno foto mosse, sarebbero molto brutti, un po' ovviamente per raccontare tutto il mondo naturale. È una passione quella della fotografia naturalistica che hai sempre avuto, oppure c'è stato un momento, un giorno, in cui ho detto, no basta, io da oggi faccio il fotografo naturalista? Ma guarda, in realtà è una passione che ho sempre avuto, perché gli animali in generale da sempre, proprio fin da quando ho memoria e da quando hanno memoria i miei di quando ero piccolo, dicevo che cominciavo ad andare in giro a zampettare, a guardare cose, gli animali sicuramente. E poi ti direi che all'età di 11 anni circa ho cominciato a usare la macchina fotografica che girava per casa per portarmi a casa dei ricordi, perché prima io disegnavo su un taccuino, quindi avevo il taccuino, mi segnavo oggi, ho visto il cormorano in questo lago, data, ora, meteo, disegnavo il comportamento, mi segnavo le cose, eccetera, e quindi da qualche parte, in qualche armaggio, devo avere tutti questi taccuini che ho consumato. E poi a 11 anni ho iniziato a fare le foto e inizialmente appunto come ricordo, quindi per documentare quello che incontravo, poi man mano che sono passati gli anni ho cercato di trasformarlo proprio in un mezzo di comunicazione per veicolare dei messaggi di conservazione, per raccontare delle storie, per portare sotto il riflettore per il grande pubblico degli animali che magari sono meno noti e meno conosciuti. E quindi sicuramente questo mi ha aiutato, perché probabilmente studiare scienze naturali, di laurearsi e il giorno dopo aprire la partita IVA come fotografo naturalista non sarebbe stato, diciamo, in discesa. Mentre avere tanti anni alle spalle di gavetta, diciamo, mi ha sicuramente aiutato nel capire un po' più come muovermi in questo settore. È sicuramente affascinante anche tutte le problematiche da libero professionista che tutti conosciamo. Anche perché ci sono pochi liberi professionisti che per lavoro devono appostarsi nelle paludi, quindi però poi a questo magari ci ritorneremo. Per il tuo lavoro ormai da un po' giri dappertutto in Italia, ma anche fuori, sia per scattare le foto, sia per tenere conferenze. Dei vari luoghi che hai visitato, ce n'è uno che ti è rimasto nel cuore o per le bellezze naturalistiche o perché magari sei riuscito finalmente a vedere una specie che cercavi da tanto? Sì, allora, diciamo che io per il mio lavoro mi muovo soprattutto in Italia, in realtà perché abbiamo una biodiversità talmente eclatante e grandiosa che si possono raccontare veramente storie per tutta la vita senza mai muoversi dall'Italia. Poi faccio anche delle cose attorno per il Mediterraneo, per l'ultimo progetto The Wild Line, però diciamo che il grosso è in Italia e possibilmente anche attorno a casa, proprio per ridurre anche l'impatto degli spostamenti, eccetera, che poi si possono mitigare in altri modi. Ma comunque diciamo che questa è un po' la mia filosofia. Ci sono vari luoghi che sono rimasti nel mio cuore, quindi è difficile sceglierne uno in particolare. Diciamo che quelli a cui sono più affezionato sono quelli che ho frequentato di più per un motivo o per l'altro e che conosco meglio, cioè le grotte sommerse di Capocaccia in Sardegna, che sono degli ambienti veramente incredibili dove si possono incontrare delle situazioni pazzesche dal punto di vista delle concrezioni che adesso sono sommerse dal punto di vista di animali che fuori dalla grotta vivrebbero magari a centinaia di metri di profondità e che in grotta trovano comunque il buio, il freddo e quindi riescono a sopravvivere anche a 30-40 metri dove posso andare io. Poi ti direi anche la Valcuvia che è una zona vicino a casa mia in provincia di Varese che ha dei boschi veramente fantastici e ci vado fin da quando sono piccolo e ogni volta che ci vado scopro qualcosa di nuovo. Quindi fa capire come anche i posti che si conoscono meglio abbiano tantissimo da offrire. Beh, parlando di biodiversità vicina, non a caso una tua pubblicazione recente, credo la penultima, è un libro fotografico che si chiama Miriadi, racconta la bellezza di forme di vita pazzesche, che poi lascerò raccontare a te fra un momento, che però si possono trovare anche nel parchetto sotto casa. Ti va di raccontarci un po' di questo progetto e in generale della biodiversità della porta accanto? Sì, allora, questo è un progetto che è nato durante il lockdown, quando non ci si poteva muovere e ovviamente io ho patito molto questa cosa nel non poter uscire di casa e andare in giro a vedere gli animali, a cercare gli animali, però come tutti i naturalisti in quel periodo guardavo dal balcone, dalla finestra, c'era il rondone, a volte c'era il gheppio, il cuculo sull'albero di fronte, nel giardino c'erano le lucertole, c'erano dei ragni, insomma passavo il tempo così, però a un certo punto poi ha raschiato il fondo del barile, come si dice, comincia a chiamare i ragni per nome, Luigi, Andrea, non sono più Tegenaria e Zoropsis, ma gli dai il nome proprio perché li vedi tutti i giorni, e alla fine ho cominciato a fare dei safari in miniatura, andando proprio sempre più sull'ingrandimento spinto e cercando i collemboli, che sono dei parenti degli insetti molto piccoli, coloratissimi, blu, rossi, gialli, astriscia, macchie, sembrano dei Pokémon, i più grandi che si trovano normalmente sono attorno ai 2-3 mm, però la maggior parte da noi sono mezzo millimetro, un quarto di millimetro o una cosa del genere, e hanno tutti dei superpoteri, possono saltare a grande distanza, possono ibernarsi, possono disidratarsi, sono pazzeschi, e quindi ho cominciato a fare queste osservazioni trovando un mondo incredibile, perché in un metro quadro ce ne possono essere 10.000 individui, a volte anche molto di più, e sono indicatori di suoli ben conservati, risentono dei cambiamenti climatici, quindi li ho presi come dei piccoli ambasciatori di problematiche grandi per far vedere che tutto è collegato. Devo dire che le persone normalmente rimangono stravolte, cioè quando vedono questa conferenza che sto facendo in giro, o quando vedono il libro, rimangono sconvolte perché non immagino minimamente che, camminando con gli scarponi su un sentiero, tu possa essere tipo Godzilla che si muove su un pianeta popolatissimo. Dal punto di vista della comunicazione, questo ha funzionato perché fa rendere conto di quanto sia ogni nostra piccola azione, possa avere un grande impatto, e di come ogni metro conti dal punto di vista del consumo di suolo, che è uno dei problemi più grandi che abbiamo oggi. Sto immaginando questa scena bellissima di te sdraiato in giardino con, non so che obiettivo si usi per fare questo tipo di foto, una specie di microscopio, ecco, sdraiato in giardino a guardare i collemoli vicini che ti osservano. Vabbè che in lockdown abbiamo fatto tutte cose strane. Sì, sì, penso che i miei vicini di casa mi ritenessero un pazzo, perché stavo magari ore sdraiato nello stesso punto, con questo obiettivo macro che sembra un po' un microscopio, è un obiettivo della laova, che ingrandisce fino a 5x, quindi diciamo 5 volte un macro normale, e poi puoi mettere anche dei tubi di prolunga, e quindi aggiungere ulteriormente pezzi e ingrandire ancora di più. Ovviamente mettere a fuoco animaletti così è difficilissimo, perché si muovono in continuazione, hai tutti dei problemi tecnici, eccetera, e quindi magari stavo davvero ore in un metro quadro a cercare di mettere a fuoco un singolo animale, che ogni volta che stavi per fare la foto si girava appena appena, e quindi dovevi ripreparare tutto e così via. Poi stavo lì, sudavo come un cammello, perché poi faceva caldo in certi periodi, i lockdown erano già primavera avanzata in certi casi, e dunque immagino che ci siano dei racconti popolari che viaggiano in quella zona, adesso mi sono trasferito, ma in quella zona sicuramente ancora ricordano quello che stava ore sdraiato nel prato di casa. Diciamo che mentre tutti durante la pandemia ci siamo dati ai lieviti a fare le pizze, tu ti sei occupato di altri piccoli organismi. Però tutti questi veri pezzi è anche per una buona causa, perché finora ci hai raccontato di diversi esempi in cui usi la fotografia naturalistica non solo come mezzo di espressione artistica, cosa che sicuramente è, ma anche per promuovere, per esempio, la conservazione o comunque l'importanza della diversità di alcuni animali. Mi viene in mente un progetto forse simile in questo senso che hai fatto, che è quello Out of the Blue, su un animale però un po' più grande dei collemboli. Sì, 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 esatto. Quello è un altro progetto che era partito prima della pandemia e che quindi poi la pandemia ha un po' fermato, ma siamo andati avanti. L'ho fatto con Bruno D'Amici, Seugo Mellone, due miei amici e colleghi bravissimi, e fa parte appunto del filone del Mediterraneo e quello è stato tutta una storia legata proprio alla foca monaca. Quindi si passa dal piccolissimo al grande perché è un animale veramente impressionante, soprattutto sott'acqua. E lì siamo riusciti a realizzare un libro che racconta tanti aspetti della vita di questo animale misterioso, una leggenda quasi per la conservazione per il Mediterraneo, e che è riuscito a sopravvivere nelle roccaforti delle zone orientali, quindi tra la Grecia e la Turchia, diciamo per semplificare, e che adesso, un po' come ha fatto il lupo a partire dagli anni 70, sta un po' allargandosi, quindi sta un po' tornando nelle zone in cui era sparita, e quindi aumentano sempre di più le segnalazioni anche nei nostri mari, per fortuna, e speriamo di essere pronti. Noi, con questo libro, volevamo un po' fare informazione anche per preparare le persone che vanno al mare all'incontro eventuale con un animale del genere. Beh sì, diciamo che effettivamente se uno è in mare non se lo aspetta, per quanto bello l'incontro con una foca monaca potrebbe essere un po' di impatto. Andando verso la conclusione della puntata, salto un po' di palo in frasca, ma perché non posso resistere alla tentazione di girarti una domanda che abbiamo fatto, non io ma Alessia, che si era occupata di quell'intervista, ad Emanuele Biggi, co-conduttore di Geo e anche lui fotografo naturalista, che è stato nostro ospite nella scorsa stagione. Potete eventualmente recuperare la puntata. Perché ovviamente non darete la stessa risposta, ogni fotografo naturalista che io abbia mai incontrato ne ha una diversa e particolare. La domanda è, ti viene in mente un aneddoto riguardo una situazione buffa, paradossale o assurda, in cui ti sei andato a cacciare per ottenere uno scatto. Sì, sì, ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante e io me le segno sempre quando mi capitano alcune e sono indimenticabili. Altre me le segno perché le racconto alle conferenze, sono delle cose che è piaciuto sempre molto. Ce n'è una che ricordo di ormai di tanti anni fa, però fa sempre così folklore. Ero in Sardegna con un amico sulle montagne dell'interno e erano tipo le due di notte, eravamo con la macchina accostata a bordo strada, ferma, spenta ed eravamo sdraiati per terra a fotografare dei ragni e a un certo punto arriva una volante della polizia. Quindi arriva, rallenta, ci vede sdraiati per terra, si ferma, abbassa il finestrino e dice buonasera, cosa state facendo? E io in maniera del tutto innocua dico buonasera, fotografo ragni. E la risposta è stata ok, ci segua. Perché ovviamente pensano che sia una totale scusa che tu stessi lì a fare chissà che cosa perché chi sta a fotografare i ragni sdraiati per terra le due di notte. Poi ovviamente abbiamo spiegato quindi poi non ci hanno arrestato perché non stavamo facendo niente di male ma diciamo che non è l'unica situazione in cui abbiamo avuto degli incontri con le forze dell'ordine perché erano delle condizioni di orario, di posto e di situazione appunto strana. Un'altra volta a me capita di fare le cose in palude come citavi prima, le acque dolci sono in ambiente molto molto minacciato quindi spesso ci faccio dei lavori a volte per non togliere la muta soprattutto in inverno perché prendi più freddo ancora mi porto un sacchetto di plastica ricopro praticamente il sedile e poi mi siedo con la muta e guido con la muta per tornare a casa oppure per andare nell'altra palude e mi ricordo di una volta in cui mi stavano per fermare perché hanno visto praticamente che ero vestito strano con la muta da sub in città tra l'altro in posto non c'entrava assolutamente niente però aveva già fermato un'altra macchina quindi ho visto il desiderio di agguantarmi però non mi ha fermato eh diciamo che in questo caso anche il poliziotto avrebbe avuto una storia molto interessante da raccontare ho fermato un tipo vestito con la muta in centro a Milano una situazione sicuramente molto particolare con questo purtroppo si esaurisce il nostro tempo di oggi prima di salutarci hai canali social libri da consigliare a chi ci ascolta e vorrebbe dare un'occhiata al tuo lavoro sì grazie allora beh i libri li abbiamo già citati comunque se qualcuno volesse andare a guardarseli li trova sul mio sito che è www.calosoma.it poi i canali social uso soprattutto la pagina di facebook che è marco colombo naturalista e fotografo e il profilo di instagram che è marco underscore colombo underscore fotografi quindi con le due barrette basse e lì trovate aggiornamenti sulla natura novità discussioni su notizie e così via e anche gli eventi i corsi che tengo le escursioni guidate in natura per vedere gli animali per fotografare eccetera quindi direi questo come al solito troverete in descrizione il link a tutto quello che abbiamo citato così non dovete ricordarvi quanti underscore usare grazie ancora Marco per essere stato con noi grazie mille a voi grazie davvero a tutti grazie mille anche a voi che ci avete ascoltati se la puntata vi è piaciuta vi va di sostenere il progetto condividetela sui social taggando live il faro dei curiosi tutti i link sono in descrizione intanto ci risentiamo il 15 e il 30 taglio ogni mese qui su spotify ciao